Oroscopo di Paolo Fox E Gio di Tonno con la partecipazione di Umberto Broccoli, e il colonnello Morico Ariete. Cambiamenti in amore entro maggio. Toro. È un anno pieno di rivoluzioni, e ha anche un bel cielo Gemelli. Da fine anno Giove non sarà più così favorevole. Cancro. Potrebbe concludere un importante accordo Leone. Sfida importante da vincere, in estate dovrà investire molta energia. Vergine. Tra maggio e luglio progetto importante Bilancia. Stanno per arrivare risposte e conferme. Scorpione. Sta vivendo una strana condizione Sagittario. Venere in opposizione, ci sono dei conflitti in famiglia. Capricorno. È un periodo molto positivo Acquario. Deve fare molta attenzione alle provocazioni. Pesci. Dal 14 maggio andrà tutto meglio Previsioni Paolo Fox Oggi. L'oroscopo del weekend Le previsioni del weekend di Paolo Fox e l'oroscopo dell'11 maggio 2018 Ai fatti vostri In aggiornamento, l'oroscopo di Paolo Fox, 11 maggio 2018. Le stelle del weekend Paolo Fox svela l'oroscopo di oggi, e le previsioni del weekend In aggiornamento Grazie a tutti.